Claudio Arezzo di Trifiletti, artista affermato, assai attento alle dinamiche cittadine, adesso dismesso solo per qualche istante. I pennelli, guardandosi attorno, ha deciso di rinvertire alcuni tratti di Catania attraverso il progetto Un metro quadrato di Bosco, che è partito dai piazzali della ferrovia Circo Metnea. Un metro quadrato di Bosco nasce per favorire la cultura, per tutelare l'ambiente, in un contesto urbano sempre più occupato dalla cementificazione. Gli alberi, per Claudio Arezzo di Trifiletti, sono simbolo di vita che uniscono il cielo alla terra. L'albero si radica sia in alto che in basso, affonda le radici e i suoi rami nell'etere, congiungendo così il mondo luminoso della coscienza a quello scuro e sotterraneo dell'incoscio. Le piante sono state donate. Qui siamo nello spazio antistante, la stazione della Ferrovia Circo Metnea di Nesi, ma sovrastante la stazione della Metropolitana. Un metro quadrato di Bosco è l'appello che faccio a tutti i possessori di piante, alberi, che sono invaso da molti anni. Piante prestigiose, ficus, ora ad esempio stiamo trapiantando una trentina di yucche che ci sono state donate. Il progetto in cosa consiste? Consiste nella consapevolezza che gli alberi sono nati per vivere in libertà. In vaso possiamo mettere le aromatiche, possiamo mettere i gerani, possiamo mettere altre tipologie di piante. Quindi tutte le piante che noi abbiamo acquistato negli anni e che ci rendiamo conto che oramai sanno strette nei vasi, donatele a questo progetto. Io mi interesserò, grazie alla Ferrovia Circo Metnea, che mi sta dando questa possibilità di realizzare questo progetto, che ritengo sia un dono per la città di Catania, ma anche per la Sicilia, che parte questo messaggio. Perché è un progetto a costo zero. Non acquistiamo piante, le prendiamo in donazione e soprattutto noi depositiamo piante familiari, piante che hanno memoria, piante che hanno vissuto un trascorso con la convivialità, con un quotidiano con le persone. Si tratta di un'operazione totalmente a costo zero. Ultimamente si fa molta demagogia, vedo molti movimenti, molte associazioni che si riuniscono, parlano, dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare. Ecco, io credo che non ci sia più rimasto il tempo di dobbiamo fare. Dobbiamo fare, dobbiamo trovare la soluzione. Questa è la mia soluzione. Cioè abbiamo un boschetto alla playa, abbiamo un lungomare che a mio avviso dovrebbe essere... Ora, il caso vuole che un paio di ore fa mi è arrivata ad un'azione di due chilometri di aromatiche, due chilometri di aromatiche di lavanda. Ci siamo ora per un progetto del genere sicuramente se si dovesse interessare un'istituzione dovrebbe sborsare non so quante migliaia di euro. Invece no. Quello che intendo dire, io non sono ricco. Io a casa, vivo in una casa modesta di 40 metri quadrati. Quello che io sto tentando di realizzare, a parte il messaggio, è la consapevolezza. La consapevolezza che non ci possiamo sempre lamentare. Dobbiamo agire. Agire per un bene comune.